Un progiudicato di Foggia, già noto alle forze dell'Ordine per reati contro il patrimonio e associazioni da delinquere, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile con l'accusa di tentata estorsione ai danni di un'impresa di Parma che si occupa di recupero e smaltimento di rifiuti industriali sull'area di un ex deposito Eni tra via Manfredonio e via San Severo. Si tratta di Aldo Pesante, 49 anni, nipote di Francesco Pesante, personaggio ritenuto vicino al clan sinesi Francavilla. Dopo un furto di materiale nel cantiere dell'azienda avvenuto nel mese di aprile, per un valore di circa 30.000 euro, il pesante si è rappresentato in diverse occasioni ai dirigenti della ditta Parmense e con frasi piuttosto eloquenti del tipo «Il materiale rubato è finito in mani sbagliate, ma posso recuperarlo». In almeno cinque occasioni accertate, aveva tentato di estorcere denaro all'azienda da consegnare in tranche da 200 a 500 euro al mese. Fondamentale per l'arresto del pesante la collaborazione dei dirigenti dell'azienda che fin dalla prima richiesta hanno denunciato il tentativo di estorsione dell'arrestato. Il dato però importante da rimarcare è la piena collaborazione post in essere dall'impresa vittime del tentativo di estorsione. Questo è il risultato essenziale e fondamentale ai fini investigativi. Questo è naturalmente l'invito che la magistratura, doverosamente, le forze d'ordine fanno sempre. È essenziale collaborare per questi gravi reati. Nel momento in cui la collaborazione c'è, la risposta dello Stato, della magistratura e delle forze dell'ordine arriva sempre. Quindi già al primo contatto l'azienda ha denunciato tutto alla polizia? Assolutamente sì. Si è avviato sin dall'inizio un proficuo rapporto di fiducia e di collaborazione tra l'impresa vittime del tentativo di estorsione e le forze dell'ordine. E questo è sicuramente l'arma vincente oggi. Grazie. 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 Grazie.